Dalla metà di novembre saranno istituite due nuove corse dall'Università per Battipaglia, una alle 16.20 ed una alle 18.10. Ad annunciarlo l'amministrazione comunale che nelle scorse settimane ha inoltrato al tavolo tecnico per la mobilità istituito presso l'Università le istanze pervenute dagli studenti. Una buona notizia per gli universitari battipagliesi che dalla metà di novembre potranno contare su due corse in più per tornare a casa.